Ci siamo ben arrivati o meglio bentornati nel nostro studio qui a Canale 8, ne parliamo dal ritiro, per quanto siamo soltanto in termini chilometrici distanti da Di Maro abbiamo sensazioni molto forti perché di pari passo corriamo con la squadra, ci piacerebbe in realtà farlo molto ma il gruppo di Luciano Spalletti sta lavorando con grande intensità e ci sono anche delle indicazioni tattiche che proveremo a ripercorrere in questa serata discretamente lunga perché ci sono prove tattiche in corso di 4-3-3, voi direte sì ma mancano molti interpreti al momento, qualcuno si aggiungerà e vi do subito un'anteprima perché nella notte di martedì arriveranno lì a Di Maro Folgarida all'Hotel Rosati sia Calidu Coulibaly, attenzione perché si potrebbe capire finalmente qualcosina di più del futuro di Coulibaly sul quale è fortissimo il pressing del Chelsea ma anche Victor Rosimane, quindi tutti e due i calciatori africani scenderanno in campo per il primo allenamento con i compagni di squadra mercoledì mattina, questa mattina è toccata invece ad Amir Rachmani, c'è Giovanni Di Lorenzo che vi do un'altra anticipazione, domani parleranno assieme a Luciano Spalletti per raccogliere gli input, le curiosità, le domande dei tifosi che saranno appostati lì sicuramente pronti perché di curiosità di questi tempi ce ne sono tantissime e allora gli ospiti del nostro parterre, caro Marco, seguimi alla mia sinistra questa volta, Antonio Tajano, ciao Antonio bentrovato ciao, ciao, buonasera felicissimo, sai che ho investito praticamente quel poco che avevo a disposizione delle mie finanze per averti ospite qui ma lo sai che tu puoi anche non investire nulla sono contentissimo Antonio di ritrovarti così come è di fatto padrone di casa Salvatore Cagliazzo buonasera, buonasera caro Silber allora aspetta, prima di andare avanti, mi devi fare una cortesia perché tu sai che io tengo tantissimo all'interazione e molti hanno scritto sulla pagina di Canale 8 di Mertens, di Ruffiano a Mertens no, dice ma com'è possibile, Cagliazza mi ha deluso un po' ma ha cambiato idea addirittura sono finito sulle magliette A16 assieme a De Laurentiis quindi anche io devo andare sulla Napoli Bari ma tu, io ragazzi lo conosco fin troppo bene, non ha a credine, è una bravissima persona, non è, non intendeva ma scusa, devo fare io il tuo avvocato? No, non intendevi offendere Mertens assolutamente, gli ho fatto un complimento, gli ho detto che rispetto a Lorenzo Insigne che il nostro amico italiano conosce benissimo è stato molto più furbo è riuscito ad entrare nei cuori dei napoletani attraverso delle scelte che abbiamo apprezzato tutti cioè quella di baciarsi la maglia, di diventare scugnizio, di farsi chiamare Ciro e di chiamare Ciro Romeo il figlio cosa che Insigne non è riuscito a fare perché comunque è uno che come la pensa così la dice Aspetta, botta in risposta per aprire i giochi, sei d'accordo? No, è musica per le mie orecchie perché io credo che, l'ho detto già qualche altra volta il fatto di voler apparire così innamorato di Napoli e poi avere dei comportamenti diversi a me non è che piaccia tanto, io mi sarei aspettato per uno che ha professato amore in continuazione che andava dal Presidente e diceva Presidente dove devo firmare, metti tu la cifra questo era chi ha professato amore durante tutti questi anni non l'ha fatto, giustamente, io non entro nel mezzo che sia giusto o sbagliato lui giustamente fa il calciatore e cerca di trarre il massimo dal suo contratto esatto, esatto, io l'unica cosa che contesta è questa questione di questo amore che non ha dato seguito ad azioni concrete avrete capito che non è il nostro costume girare tanto attorno alla verità per carità, noi abbiamo il nostro modo di vedere le cose, nessuna censura e per questo anche il piacere di esprimere i concetti che avete sentito poi si può essere d'accordo o no, ma attenzione, c'è anche il numero di telefono che tra pochissimo scorrerà in sovraimpressione a vostra disposizione per interventi rapidi in diretta, ora sono molto molto felice perché finalmente questa sera, non me ne dovete volere ma avrò, comincerò ad avere una compagna che ci accompagnerà, scusate il gioco di parole per tutta la durata del ritiro accogliamo la Nunzia, vieni eccola, eccola qui buonasera, buonasera a tutti ciao Nunzia, ben trovata Nunzia Esposito, tifosissima del Napoli super tifosa ti faccio una domandina prima poi di andare a salutare e ringraziare i nostri sponsor sai che Koulibaly e Mertens, sei tifosa del Napoli, sono nel cuore dei tifosi azzurri soprattutto nel mio soprattutto, e dovessi scegliere uno dei due, perché sai che Mertens per ora è già fuori non voglio scegliere, sono fiduciosa e spero che fino alla fine restino qui a Napoli tutti e due tutti e due two is make one perfetto, hai ragione, hai ragione allora Nunzia, vogliamo salutare i nostri amici che ci sono vicino assolutamente perfetto, allora partiamo subito col salutare i nostri partner il resort villaggio oasis di Pestum il tuo villaggio all inclusive nel Cilento Energas, energia per la tua casa, per la tua azienda, la tua auto Energas è l'energia che ti premia PowerX, il futuro è dentro di noi Fruit Village, i villaggi in Italia e all'estero Bemac, soluzioni per pulire Cennamo Arredamenti, se puoi sognarlo puoi averlo Luigi Fusaro, eleganza contemporanea Vesuviuslandia Park, il parco divertimenti per tutti e per tutta la famiglia perfetto, perfetto, allora puoi accomodarti Nunzia e puoi farci naturalmente compagnia apriamo subito i giochi e come lo facciamo? andando a Di Maro, Folgarida per salutare la nostra Italia a cui stamattina ho chiesto detto Ida, riesci a creare un angolino in una location? beh, ah dobbiamo aspettare un pochino però la vedo sorridere quindi lei mi ascolta posso svelare? io ci sono posso svelare il retroscena? mi dice, ho detto Italia, riesci a prendere un angolino dove tirar fuori o tirar su una sorta di processo con i tifosi, che siano protagonisti anche i tifosi lì al tuo fianco, lei naturalmente mi dice di sì e poi a proposito della location, ma ho qualche idea piazza Madonna della Pace perché non è che ci siano tantissime alternative in prossimità l'importante è che non sia una malga l'importante è che non sia una malga appena siamo pronti, appena avrò l'ok della regia andremo a salutare siamo pronti, ciao Ida, buonasera, bentrovata buonasera Silver, buonasera a tutti i tuoi ospiti benvenuta alla tua nuova compagna di viaggio io la tribunetta con i tifosi polemici non l'ho preparata però Ida scusami, scusami, girati Ida girati, girati e chiama quei due signori alla tua destra la coppia che ti è passata vicino venite sì sì e avevamo appuntamento anche con loro gli amici svizzeri salutate Silver ciao Silver il ritiro senza te non è lo stesso ritiro ciao Silver ci manchi tanto e si vede la tua non presenza e complimenti sempre per i grandi valori che trasmettono a noi tutti i tifosi del Napoli ciao questa è una grandissima soddisfazione anche la carambata se ti paghi tu il figlio no è Tito Tito e signora perché ragazzi se si vive veramente un territorio quello non è un territorio come gli altri lì ci lasci il cuore se hai un pizzico di sensibilità non puoi non lasciarci il cuore quindi un braccio grandissimo a Tito e ancora lo ringrazio da parte mia perché se l'anno scorso non mi avessero dato un po' di cioccolato svizzero io Tonale e Gavia non li avrei percorsi e non sarei tornato indietro detto questo torniamo agli argomenti calcistici chi c'è al tuo fianco Italia? allora come ti dicevo la tribunetta è pronta però prima di far intervenire loro ho preferito dare spazio all'assessora Nadia Aramponi perché visto che tu decanti quotidianamente le bellezze di questa terra e lei è l'assessore ai grandi eventi e allo sport di di Maro Folgarida mi sembrava giusto ascoltare anche un parere istituzionale dal suo punto di vista su quello che è stato ormai l'inizio abbondante di questo ritiro quali sono le vostre percezioni e soprattutto quelle che sono le aspettative da oggi fino al 19 di questo mese bene per me è un onore essere collegata con voi buonasera a tutti noi siamo sempre molto in attesa prima del ritiro perché c'è tanto lavoro e tante cose da fare siamo partiti col boom quindi di sabato abbiamo fatto delle belle presenze di sabato e domenica se avete potuto vedere anche al centro sportivo abbiamo cercato di dare qualcosa in più oltre a quello che è il calcio quello che noi possiamo offrire dalla rampicata ai maestri di scia al pala orso e quant'altro ecco sicuramente oggi è lunedì la settimana parte leggermente con calma ma comunque il tifoso napolitano e il paese è molto animato e poi ovviamente aspetteremo il boom del prossimo weekend siamo in attesa domani della serata col mister e i giocatori le amichevoli e ovviamente la presentazione della squadra e ovviamente per avere tanti più tifosi è importante che arrivino anche i big della squadra dovrebbero arrivare domani sera gli ultimi due Coulibaly e Ossimen ma una battuta su Coulibaly devo fargliela alla fine lei pensa che resterà oppure volerà verso l'Inghilterra allora io seguo poco il calcio però io credo che e spero che rimanga sempre col Napoli quindi queste sono le decisioni poi che faranno i grandi capi e le voci però che se ne va ci sono o sbaglio e purtroppo sì un'ultima prima di ringraziarle e salutarla il sindaco Andrea Lazzaroni insomma aspicava ma dova quasi per certo il rinnovo per la permanenza del Napoli qui a Di Maro Folgare da per i prossimi anni lei che cosa ci può raccontare in proposito? allora in proposito purtroppo non posso raccontare niente perché è abbastanza presto sicuramente ci saranno chi lavora tra la nostra PT e la Trentino Marketing per poter dare questa risposta il prima possibile io la ringrazio la saluto e le invito a dire un forza Napoli sempre forza Napoli sempre grazie 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 all'assessore Ramponi grazie quando torniamo ci sarà la tribunetta di tifosi allora ti chiedo Ita come nelle tue abitudini ritmo altissimo dovrai essere e lo sei sempre attenta alla discussione per buttare dentro i nostri ospiti privilegiati che sono i tifosi ti ringrazio molto poi lì si chiamano tutti i Ramponi quindi abbiamo sentito l'assessore Ramponi ciao Ita a tra poco allora primo tema e questo è un tema che ieri abbiamo buttato lì poi la discussione si è fermata mi fate vedere la slide animata la regia di Canale 8 ci propone questo svelato il piano A vi spiego il piano A qual è? hanno dato i numeri nella prima conferenza stampa finalmente il piano A è fatto di un'offerta di 5 anni per 6 milioni a stagione a Caliducoli Bali più il ruolo di dirigente Antonio Taiano a fine carriera perché perché un atleta esemplare un grande uomo chi meglio di lui potrebbe rappresentare il Napoli per Mertens pare sia ancora aperta la cosa e staremo a vedere come Dries risponderà all'offerta da 5 milioni lordi che dice Giuntoli sono parenti fino a prova contraria a 2 e mezzo all'anno ma dovesse andare male cioè non si dovesse avere il riscontro sperato per il piano A il Napoli avrebbe pronto il piano B questa è l'unica domanda che è mancata ma credo di sì non credo che il Napoli basta vedere lo storico degli ultimi anni il Napoli non è mai rimasto spiazzato quando sono andati via i calciatori ritenuti incedibili iniziando da Lavezzi Cavani Higuain e quant'altro è sempre riuscito a rimettere in piedi un gruppo e una squadra abbastanza competitiva quindi credo questa è anche la tua risposta al catastrofismo che di questi tempi ci viene puntualmente ricordo quando arrivarono Mertens Caeon ma ti ricordi la proposta Balancing voglio dire io non so perché c'è questo modo di approcciare ai primi giorni di mercato oramai sono anni che siamo abituati a questi ma aspettiamo vediamo io credo che il Napoli ha dimostrato negli anni di riuscire a mettere in piedi sempre una squadra competitiva non vedo perché quest'anno non dovrebbe essere salva aspetta scusami salva posso dire una cosa alla luce della nostra amicizia che ormai dura un po' di anni ti concedo grazie ti ringrazio molto arriva Antonio in una delle puntate di Linea Calcio facciamo una chiacchierata anche con gli editori dice ci guarda dice ma sapete quante volte mi sono trovato al tavolo con il presidente per trattare per gli interessi di Lorenzo e quante volte anche i pugni sul tavolo e il tavolo si è mosso perché fa parte della trattativa tra richiesta e poi la risposta l'ultimo rinnovo l'ha fatto lui appunto e dice però mai mi sarei aspettato di dover intervenire per prendere le difese del presidente della società ma non è una questione non che ce ne sia bisogno ma io credo che il presidente non debba essere difeso né da me né da nessun altro insomma io è che credo che bisogna dar merito alla società che negli ultimi anni è sempre riuscita a raggiungere ottimi livelli è chiaro manca lo scudetto ma lo scudetto probabilmente è un intreccio di tante situazioni che possono non dipendere dal singolo presidente posso fare come sempre il provocatore vai ti aspetto hai detto che domani sera domani sera arriva Calidugulibali in ritiro il mio auspicio è che così come è stata cambiata la comunicazione nel Napoli da questi primi giorni di preparazione in Trentino in Val di Sole mi auguro mi aspico che il signor Calidugulibali si piazzi davanti ad una telecamera o vada nel teatro comunale di Di Maro e risponda alle domande dei giornalisti in modo tale da poter avere chiarezza anche dall'altra parte della barricata perché Napoli è stato chiaro giuntoli è stato chiaro il presidente ha offerto 6 milioni netti a stagioni per 5 anni 30 milioni di euro 60 milioni lordi in 5 anni che per una società che deve abbassare il tetto ingaggi per colpa di problemi economici finanziari è tantissimo quindi il Napoli lo sforzo l'ha fatto oggi vorrei che Calidugulibali rispondesse in modo chiaro e preciso ad un popolo che comunque come dicevo nelle ultime due serate gli ha sempre mostrato grande affetto nonostante abbia avuto nel corso dei suoi nove anni in azzurro qualche difficoltà come è giusto che sia quando si sta a lungo in una squadra allora scusami Italia al volo vengo da te per un flash prima di andare al telefono perché c'è un telespettatore in linea perché amica mia tu sei d'accordo che la comunicazione non si fa in maniera autonoma Salvatore diceva la comunicazione è cambiata scusa se ritorno su una domanda di ieri ma la comunicazione è cambiata davvero? allora come abbiamo detto ieri anche da parte dei tifosi poi magari li faremo intervenire su questo argomento c'è un po' di dubbio insomma che sia una soluzione definitiva questa che ci sia veramente indirizzati verso la strada giusta e forse qualche voce insomma che arriva un po' filtra dal dal guerretiro del Rosatti indicherebbe che in realtà insomma tanta tanta apertura forse non c'è o soprattutto bisogna che si rispettino delle regole che vengono date dall'alto della società e quindi insomma vediamo che cosa accadrà nei prossimi giorni Ita però le parole le parole di Edo ieri a voi o durante la firma dei palloni o gli autografi delle magliette è stato un po' contro quello che poi era stata la comunicazione del giorno precedente perché lui ha parlato di Di Bala forse qualcuno gli avrà detto ma cosa hai detto e poi c'è stata la precisazione subito dopo quindi siamo tornati subito un attimo a quando dopo la sconfitta con l'Empoli Napoli fece tre comunicati per capire se si doveva andare in ritiro se l'aveva deciso il buon Spalletti e poi si finì con le scene per conoscersi rieducative rieducative è un po' esagerato ma era un po' era un po' quello che l'Italia intendeva nel suo intervento estremamente diplomatico ed effettivo dei fatti vedo anche Gerardo Cervone che viene da Verona ma in realtà ha origini sannite ci sono tifosi storici andiamo prima al telefono però pronto buonasera sono Nimo buonasera e buona trasmissione ciao ciao Mimmo benvenuto grazie per la splendida notizia che hai dato ieri a proposito del calciomercato di di Canale 8 che da quest'inverno si torna di lunedì per fortuna siete voi quest'anno quindi saremo sarà un inverno meno freddo grazie 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 mille detto questo visto che la trasmissione deve essere spigliata e veloce in effetti condivido in pieno quello che diceva credo che sia l'ex manager di il signore che è in trasmissione vicino a te a proposito appunto di Mestens che è un ragazzo pure adorabile se vogliamo ma io ricordo che Del Piero quando la Juve voleva farlo fuori si è presentato da Agnelli dicendo esattamente quello che diceva il signor Ottaiano Agnelli io sto qua dimmi dove devo firmare metti tu la cifra e l'ha fatto Del Piero con tutto il rispetto per Mestens che è il nostro cannoniere della storia ma di Del Piero si parla di 300 gol è un ragazzo come Del Piero campione del mondo e tutto ad Agnelli pur di restare la Juve disse metti tu la cifra insomma non c'è vabbè ma non è stato il solo ci sono stati anche altri sicuramente lo stesso Costa Furta ha fatto una cosa del genere l'ultima ma io se non ricordo male perché sono piuttosto diversamente giovane ma mi ricordo pure ai tempi del Navo di Sivore Altafini che qualcuno abbia fatto una cosa del genere tipo metta della cifra è vero che erano altri tempi c'era Fiore cose del genere per carità il calcio è cambiato tutto quello che vuole lei ma io condivido esattamente il suo pensiero perché effettivamente sta diventando una barzelletta poi Mestens ci fa piacere se rimane perché ci piace di Mestens questa furbizia questo guizzo proprio da Napoletano Scunizzo però in realtà è un professionista e due milioni e mezzo netti sono fratelli di 5 miliardi 5 miliardi vivono 8 generazioni e forse anche 10 quindi Ciro Romea è voglia per tutta la sua vita per suffragare quello che dicevi sono Salvatore Cagliazza buonasera ricordo ricordo a tutti che qualche settimana fa l'agenzia perché adesso non si chiamano più procuratori si chiama agenzia ho scoperto che sono più più agenti l'agenzia di Drismertens presentò una proposta di 4 e mezzo a stagione più 3 e 8 alla firma credo follia pura per un 35enne le famose mail di cui si parlavano sarà anche integro sarà anche furtissimo potrà dare ancora tanto ma se il buon Lorenzo Insigne è dovuto andare via a 800 milioni di chilometri di distanza perché da 3 e mezzo non si è salito a 4 e mezzo a 31 anni sarebbe stato follia ma Lorenzo a differenza di Mertens che è andato in Belgio e il napoletano è vero Lorenzo ha capito benissimo il mercato come si sarebbe mosso ed è stato un gran furbo ad accettare di andarsene a Toronto a 31 anni a 7, 8, 9, 10 milioni gli auguro di prendere quello che gli danno è stato il più intelligente di tutti il più napoletano di tutti a comprendere io credo che sia stato il più coerente di tutti è coerente furbo intelligente cioè Di Bala a 28 anni 29 che non trova squadra così come non l'ha trovata Bernardeschi che era un fuoriclasse mai esploso così come non sarà un fuoriclasse Zaniolo che farà la stessa fine di Bernardeschi di Balotelli e di quant'altro me lo vedremo questa è gente che non ha squadra è vero è gente che non ha squadra perché Bernardeschi Zaniolo ce l'ha Zaniolo ce l'ha Zaniolo a squadra forse ne ha due o tre Nino ti ringrazio molto ti ringrazio molto ragazzi e saluti ai due tuoi collaboratori di stasera grazie 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 molto Nino ciao allora sono pronto per andare a Di Maru ma prima passo da Antonio Taiano è un po' come succedeva per Massimo Troisi e Benigni alla Dogana no? e il Fiorino la storia del Fiorino spalle al muro vediamo questa grafica è una proposta di sondaggio che ha lanciato Arturo Minervini sulle pagine di Canale 8 Coulibaly e Mertens il Napoli con questa comunicazione un po' improvvisa o stravolta nella prima conferenza stampa li ha messi spalle al muro? eccetera strategicamente ecco parliamo di strategia ha fatto un'operazione importante voglio dire qualcuno è portato anche a criticare a dire che probabilmente non era il caso ma io credo che andava andava un attimo fatto chiarezza su alcuni aspetti il Napoli ha ritenuto giusto dire qual era la situazione per evitare che ci fossero chiacchiere che probabilmente non rispondessero Antonio è entrato nel mondo Napoli nel 2012 quando ci ritrovammo a Di Maro che arrivò anche Lorenzo assieme a Lorenzo e comunque ha conosciuto Giuntoli io e noi non l'avevamo mai sentito in una conferenza ufficiale non era mai stato presentato non aveva mai preso solo qualche qualche pre e post qualche intervento da Zombo sky andiamo da Italia quindi primo giro come al solito hai sentito naturalmente hai colto gli argomenti che abbiamo trattato Koulibaly Mertens e anche un pensierino su Insigne che alla fine Nino non c'era bisogno che fosse rivalutato Insigne perché io continuo a dire che non sarà per niente facile sostituire un giocatore come Insigne però è un po' l'immagine del momento un bel giro rapido come sai fare tu con i nostri amici sì certo e io alla fine ci aggiungerei anche una domanda circa la comunicazione il quesito che tu hai lanciato prima allora cominciamo dai nostri amici svizzeri dunque Koulibaly Mertens una conferenza stampa di Giuntoli chiara veramente in attesa per certi versi che racconta i fatti come stanno offerte importanti da parte del Napoli ora tocca ai calciatori che cosa vi aspettate accada ma soprattutto come avete preso questa nuova comunicazione questo nuovo modo di raccontare i fatti veri anche se dal loro punto di vista perché non c'è stata interlocuzione da parte del Napoli io penso che prima di tutto lo sottocalcio Napoli ha detto la verità quindi sicuramente altrimenti sarebbe stato smettito dalla controparte e penso che per i calciatori per quello che hanno reso l'anno scorso il Napoli ha fatto offerte molto importanti anche per lo stesso Coulibaly che non ci dimentichiamo ha mancato 11 partite l'anno scorso 6 milioni di euro sono parecchi tanta roba per un 31enne lei che cosa si aspetta che dirà Coulibaly all'incontro con De Laurenti se è arrivato il momento di dare delle risposte io spero che resti almeno per quest'anno e poi speriamo speriamo che rinnovi e se non vuole e che vada con la nostra benedizione allora invece passiamo alla mia mancina Mertens Coulibaly avete sentito il vostro giudizio ma anche sul fatto che il Napoli ha raccontato a tutti i tifosi qual è la situazione e che quindi adesso c'è poco spazio per le polemi guardi io penso che è stranissimo nel mondo del calcio sentire parlare addirittura da un direttore sportivo di cifre così dettagliate quindi non credo che Giunto gli abbia detto delle cose non vere quello che posso dire io da tifoso semplice tifoso chi vuole stare al Napoli noi siamo qua se no l'autostrada è qua vicino ce ne faremo una ragione si va avanti ci sono società grandissime che loro pensano un giocatore è qua ma noi siamo il Bayern Monaco il Real Madrid c'eravamo ci siamo ci saremo senza quei giocatori e la stessa cosa bisognerebbe cominciare a pensarla non solo al Napoli ma anche in Italia perché soprattutto noi a Napoli noi pensiamo via Lavezzi e Cavani non ci scriviamo più al campionato via Mertensi e Culli Balinzi e non ci scriviamo al campionato non è così comunque noi dobbiamo tifare la maglia e la società quindi presidente tutto a prescindere dai giocatori che ci sia perfetto o no perfetto a questo elenco non deve andare anche Lorenzo aspetta scusami se ti interrompo abbiamo il tassativo Gerardo tienilo lì ti prego di tenerlo lì anche perché ho sentito parlare di autostrada ma a lui è capitato di prendere la 16 perché ti passaggio verso le sue terre però questo intervento secondo me è molto importante perché il vostro cioè il contributo dei tifosi non parlano e si fa polemica perché perché non parlano perché hanno paura di esporsi perché non si dice la verità parlano e viene messo in dubbio viene messa in dubbio la veridicità delle parole di uno che va lì a metterci la faccia può esserci la strategia ma c'è anche la dignità che secondo me viene prima della strategia quindi anche noi tifosi secondo me dobbiamo essere furbi dobbiamo essere intelligenti vuoi aggiungere poi che abbiamo la pubblicità no ma mi sembra corretto quello che dici probabilmente ci sono alcuni alcuni interventi pretestuosi si cerca sempre l'occasione per per criticare per contestare per andare contro e questo è quello che probabilmente andrebbe evitato Nunzia cosa dici? Eccomi direi che è arrivato il momento di andare in pubblicità pochi secondi restate con noi e non cambiate canale ne vedrete delle belle a tra pochissimo con il focus tattico a tra poco è naturale che quando sono le 21 e 33 minuti tra poco andremo a parlare anche di questioni di campo lo faremo tra circa una decina di minuti con il nostro ospite super ospite in collegamento Skype però andiamo con ordine non mi hai risposto prima però di farti la domanda voglio salutare devo salutare Viola e Vincenzo Ombra soprattutto la piccola Viola sai perché? perché so che gioca al calcio che ha grandi aspirazioni grandi ambizioni soprattutto Viola coltiva la tua passione che è la cosa più importante di tutti e lo so mi prenderei per matto e perfino più importante dei soldi detto questo Salvatore non mi hai risposto se il piano B il Napoli eventualmente ce l'ha o no? ma ce l'ha su Mertens ce l'ha c'ha Delufeu che sta aspettando da un mese che il Napoli lo chiamo su Coulibaly non lo so perché io avrei preso l'ho detto più volte l'anno scorso ne parliamo il martedì che finalmente torna di lunedì che ogni tanto è bene ricordarlo Bremer per me sarebbe stato Antonio l'ideale per questo Napoli spendendo anche un bel po' di soldini però vista l'età secondo me il Napoli avrebbe costruito con Spalletti un nuovo un nuovo Coulibaly non lo so se pensano al giapponese al cinese al coreano però qualcosa in mano hanno perché se il Chelsea veramente porta 40 milioni di euro io credo che Aurelio De Laurentiis deciderà non alla Juve no però io dicono per la cronaca diciamo che il Chelsea è in pressing auto continuiamo a dire il Presidente ma il ragazzo è così convinto di rimanere io sarei curioso di sapere l'ho detto cioè te l'ho detto prima perché se ci sono poi tutte queste voci probabilmente il ragazzo non è così convinto convinto perché altrimenti blocca subito ti faccio una domanda perché ieri Montervino anche Italia tra perché qui si va avanti di ipotesi di ragionamenti dicevano ma può darsi che Koulibaly anche esaltato dalla vittoria in Coppa d'Africa con il Senegal abbia scoperto il gusto dolcissimo e bello delle vittorie è arrivato a 31 anni il momento potrebbe essere votato anche come miglior calciatore africano ecco il momento di provare a vincere è in corsa per questo trofeo per questo riconoscimento importante per lui no ma ci può stare voglia di una vittoria ma ci può stare il competitor il mettersi in gioco in un campionato diverso il mettersi in gioco in competizioni diverse ma ripeto è legittimo che i calciatori facciano scelte di questo tipo l'unica certezza è che molto raramente scelgono col cuore e questo i tifosi se ne devono fare una ragione perché è così che si gioca perché invece si pensa che sia il cuore ad alimentare le scelte dei calciatori raramente molto ma molto raramente accade molto raramente mi fate capire poi andiamo da Italia che è lì con i tifosi non so se abbiamo anche qualcuno al telefono come sono fatte le valutazioni perché io leggevo delle dichiarazioni di Bozzo che per un periodo è stato tuo collega è tuo collega e ha rappresentato gli interessi di Cassano che diceva Coulibalyva che fa pensionato non lo so forse sì pare che non non lo si vede ha ottimi motivi anche per esserlo anche un'età anche un'età Coulibalyva alle 15 milioni del IT non meno di 100 quali sono in base credo che Bozzo abbia fatto questa analisi questo paragone in base all'età fondamentale no perché uno è del 91 dell'IT penso sia del 96 97 dopo controlliamo quindi la valutazione è stata fatta in base all'età ma sicuramente Aurelio De Laurentiis non ascolterà il Bozzo perché meno di 40 milioni non parte se si presenta la Juve meno di 80 non può ma io credo che la Juve non si presenta secondo me arriviamo a del IT la Juve non si presenta neanche in quel caso io sono convinto che il calciatore dica no anche il calciatore sì anche io penso anche io penso cosa pensano i tifosi che sono a Di Maro folgari da in piazza Madonna della Pace con Italia Coulibaly dice no a prescindere dalla Juve Aggiungo che aggiungo anche che non è soltanto Coulibaly eventualmente a dire no alla Juventus ma sicuramente il Napoli non lo cederebbe questa volta non c'è clausola rescissoria quindi non potrà avvenire un Higuain bis lì decisero Juventus e calciatore qui decide ancora il Napoli allora ti abbiamo tenuto in caldo sulla vicenda Coulibaly abbiamo sentito il parere dei nostri amici per adesso tutto il rispetto tanto amore però se vogliono andare via e non sono motivati la strada è quella la porta è aperta tu che cosa le pensi? Sono professionisti però prima se mi permetti un piccolo saluto a Silver e a tutti gli ospiti dello studio e un caro saluto a tutti i cuori azzurrissimi che ci stanno seguendo da casa Silver ci mancate speriamo che l'anno prossimo si possa rifare il salotto che secondo me era la trasmissione più bella di mare la doposcena eravamo rilassati e facevamo delle belle e interessanti discussioni adesso torno alla parte Coulibaly Mertens Coulibaly Mertens Insigne allora faccio un'altra divagazione scusami una breve una brevissima allora io sono a rilacciarmi alle vostre trasmissioni io sono pure io come Silvio Mertens stanco stufo di questa stucchevole guerra tra Guelfi e Ghibellini da parte dei tifosi napoletani così non si va da nessuna parte diciamo e parafrasando anche Nanni Moretti nel film Aprile quando seguiva le tribune politiche con D'Alema che diceva sempre di qualcosa di sinistra di qualcosa di sinistra io al Presidente una cosa chiedo di qualcosa di napoletano di qualcosa di napoletano così si ritorna un po' anche al tifo torniamo noi tifosi ad essere più uniti per quanto riguarda invece i Coulibaly Mertens sono professionisti fanno dei contratti e i contratti hanno un inizio e hanno un termine se le parti vogliono continuare a stare insieme si prolunga altrimenti abbiamo fatto meno del dio del calcio penso che ringrazieremo Insigne bravissimo capitano per me rimpianto ma comunque arriverà un altro capitano gli vorremmo bene come lui o di più Varaschelia secondo me lo sostituirà benissimo e già inizia a entrare nei cuori dei tifosi e sono convinto che abbiamo una squadra competitiva però non andiamo troppo oltre perché io credo che adesso ci sarà il momento del confronto adesso bisognerà capire che cosa decideranno questi calciatori se accettare o meno le offerte del Napoli perché sembra un po' andare sembriamo essere precoci nei nostri giudizi aspettiamo l'importante è aver capito che per i tifosi almeno i nostri tifosi anche a di pesanti non sarebbero non istigherebbero al suicidio bene eita dopo dopo Rosaria dopo Rosaria perché lei deve raccontare deve parlare di un calciatore che oggi è il più amato del Napoli inaspettatamente il più amato del Napoli è Mario Rui è Mario Rui è vero o non è vero eh vedi esatto Mario Rui è Mario Rui ci fosse stato di Fusco avrebbe rischiato l'infarto ma detto questo poi un grosso bacio a Rosaria tra poco torniamo da voi lì a Di Maro Antonio scusami mi piace l'appello a smetterla a farsi la guerra interna ma io l'ho detto anche in altre circostanze io credo che c'è un atteggiamento in alcuni pretestuosi perché in alcune volte c'è un eccesso di critica non costruttiva che sinceramente va tranquillamente evitato e questo non aiuta non aiuta l'ambiente non aiuta i calciatori non dà serenità e io una volta provocatoriamente ho detto pure non so se qualche risultato è stato anche determinato da questa non coesione da parte del del gruppo dei gruppi dei tifosi dell'ambiente queste continue critiche che ci sia scarso feeling tra la proprietà è una parte della tifoseria sotto gli occhi di tutti ne abbiamo assistito anche all'addio ai saluti di Lorenzo Insigne in Napoligeno a decori contro ADL credo che però la conferenza stampa di sabato possa aprire a soluzioni diverse perché ti ricordo che l'operazione simpatia di Murigno ha portato 28 mila abbonati alla Roma vincendo la coppa del nonno perché l'Europa League non ne parliamo figurarsi però male salvo sai sì non sono da io credo che la Roma abbia fatto una super operazione sicuramente però è un'operazione simpatica operazione simpatica fatta dall'Inter ma ragazzi Napoli vinceva la Coppa Italia e non si riusciva a rendere coesi i tifosi quindi non è la questione è una società e tu ne sei buon testimone perché hai vissuto tanto tempo come manager di Insigne nel mondo Napoli e questa è stata una società che arrivava seconda e veniva criticata siamo arrivati terzi e siamo stati criticati perciò è spiegabile e quindi quando io ho detto qualche volta che è una piazza che si è un po' imborghesita e qualcuno si è offeso io non parlavo di imborghesirsi o diventare snob dicevo che purtroppo ci sono anche gli avversari oggi l'Inter te ne trovi di più sai oggi l'Inter vanta Lukaku che due anni fa ha fatto vincere da solo il campionato all'Inter il Minas l'ha vinto con il tetto in gaggi minore di tutti però c'era Ibra che ha giocato poco ma ha segnato e ha fatto valere no scusa Giroud Giroud ha fatto valere la sua Leao Magnan Ettonali Ettonali e oggi credo che bisogna aggiungere oltre alla Roma anche il secondo anno della Lazio di Sarri la Fiorentina che è una squadra seria quindi l'Atalanta quindi l'Atalanta non sappiamo come andrà avanti quindi oggi per il quarto posto il Napoli avrà anche qualche difficoltà in più rispetto all'anno scorso di questi tempi l'Atalanta intanto vale la pena perché abbiamo sbirciato sbirciato il nostro mestiere anche in casa d'altri l'Atalanta ha leggermente ridimensionato il suo progetto perché capita così perché ci sono delle annate in cui dalla tua riserva eccezionale arrivano dei vini straordinari e c'è il coraggio di lanciarli subito perché quella è la politica di quel club oggi malgrado il ridimensionamento dei risultati nell'immediato che si può pensare è corsa all'abbonamento perché quel progetto piace perché si sa che così arrivano dei risultati mi pare che i 18 anni perché la società sta andando verso la maggiore età a settembre la società di De Laurentiis mi pare che poche volte io la cosa Antonio poi andiamo al telefono la cosa che non riesco a capire e queste queste critiche eccessive hanno come diciamo tra virgolette suggerimento costruttivo il presidente deve andare via basta cioè attenzione che ti fanno la maglia anche te a 16 eh attenzione ma lui ma guarda io dico si può criticare è giusto criticare però in modo costruttivo andando a proporre soluzioni andando ad aprire un confronto andando a dare dei suggerimenti che possono essere degli input ma a dire il presidente deve andare via io ti dico una cosa oggi con Giuntoli che dice De Laurentiis ha offerto 6 milioni nette a stagione a Coulibaly che cosa gli dici al presidente che cosa gli vai a dire ora magari il nostro amico al telefono gli dirà qualcosa il piano B intanto prevede abbiamo scelto l'ha fatto sempre Arturo Minervini due immagini emblematiche che sono quelle della tentazione del sogno Paolo Di Bala e di Milenkovic che invece è il difensore ma stai venendo a Dama ma io non ci credo cioè io ti ho detto già ieri sera che devo il fatto che ne parli e fai la slide la slide quindi devi parlare con Minervini Minervini è giornalista Sergio Milenkovic è il giocatore serbo di Ramadani di Ramadani che andrà alla Juventus con ogni probabilità quello è andato a trattare quello è andato a trattare no anche hanno chiesto di Coulibaly ma ah guardatela questa qui è la scheda di Nicola scusate non Sergio il serbo Nico Milenkovic 24 anni valutazione 20 milioni neanche troppo no appunto sono giusti sono abbordabilissimi per un giocatore che conosce italiano perde un pezzo forte in difesa se va via lui ma guarda l'anno scorso ha perso Vlaovic ha continuato a fare il pallone perché sa fare il calcio comunque Milenkovic conosce il campionato italiano perché qui è dal 2017 questo è un giocatore importante sentiamo al telefono chi c'è pronto ciao sono Vincenzo ciao Vincenzo benvenuto ciao Vincenzo Tavellino solo da te e ai tuoi ospiti in studio grazie ti ascoltiamo allora per quanto riguarda il piano B io sono d'accordo con il manager Ottaviano Ottagiano il quale ha detto che il Napoli non si è mai fatto trovare non pronto e quando ha avuto bisogno di muovere le carte le ha fatte e l'ha fatto sempre bene poi un'altra cosa volevo dire secondo voi volevo fare una domanda a voi a te Silber ma anche allo studio l'operazione simpatia di quest'anno di De Laurentiis potrebbe essere la nuova comunicazione che sta facendo perché noi sappiamo bene che le ultime buttate che ha fatto sono state pessime e in questa situazione onestamente ci sono andato perché io in 18 anni non ho mai non ho mai criticato l'operato di De Laurentiis però devo dire queste ultime sue uscite mi hanno mi hanno infastidito quindi non non faccio parte di quegli riducibili sai Aurelio De Laurentiis Pappone non esiste e dico secondo voi questa nuova operazione di comunicazione potrebbe essere un'operazione simpatia e poi un'altra cosa di Bala di Bala tutti noi sappiamo che è un ottimo giocatore per carità un campione però non dobbiamo dimenticare che di Bala negli ultimi campionati ha giocato 20 partite forse neanche pure quindi un giocatore che chiede tanti soldi e poi gioca solo 20 partiti io non so se a Napoli e a Aurelio De Laurentiis ma anche la dirigenza possa non so servire un giocatore del genere Vincenzo molto chiaro grazie gentilissimo grazie a voi ecco la scheda di Paolo Di Bala 8 milioni di ingagno poi andiamo ad Italia non è che quando indossano quelle maglie mi sono molto simpatici eh no però devo dire che così come lui tanti altri calciatori per colpa del covid per colpa delle tantissime partite che si disputano hanno avuto dei problemi fisici importanti lo stesso Simen ma lo stesso Lozzano hanno giocato molto poco rispetto ai canoni precedenti quindi che però ripeto questo calciatore l'ho detto anche ieri non deve essere non deve passare per uno scarso questo secondo me e poi chiediamo ad Antonio secondo me questo è il giocatore ideale per sostituire Insigne e per far fare il salto di qualità al Napoli e andiamo a Di Maro Antonio poi dopo da te Italia doppia risposta la prima sulla comunicazione in realtà l'abbiamo già data io sarei molto cauto quando si parla o si pensa a stravolgimenti di abitudini che sono da DNA e so che tu sei d'accordo e poi quanto quanto vale ecco questa idea sogno di Di Bala che ieri raccontavi come una sorta di scintilla no? che potrebbe servire al Napoli a te poi ti dico la mia di scintilla sì io però prima l'ho promesso devo dare a Rosario la possibilità di parlare di quello che fino ad oggi perché diciamo che l'arrivo di Di Lorenzo non ha permesso a Di Lorenzo di scendere subito in campo quindi il capitano fino ad oggi è stato Mario Rui e questo ruolo l'ha interpretato bene ma soprattutto Mario Rui oltre ad essere uno di quelli storici è anche uno che come tu gli hai detto a cazzimma e che quindi fa bene serve in uno spogliatorio di una squadra che ha degli obiettivi importanti insomma ma che Mario Rui stai vedendo? ah bellissimo proprio a parte bellissimo bellissimo no nel senso scherzo comunque non è male il suo perché? no partendo dal presupposto che lui ha preso il posto di un grande giocatore è Goulam non ci dimentichiamo quindi io gli ho dato sempre fiducia e chi mi conosce lo sa io lo ho sempre sostenuto stamattina Madonna sorrideva sorrideva e poi ha parlato con tutti io ho fatto alcune domande pure gli ho detto giovedì allora sarà lei il capitano della squadra dice no signora è sempre Calidù dico sì ma non si è allenato cioè no no ma quello non ha bisogno di allenarsi ma sorridendo convinto poi ho detto Mario le posso dire una cosa quanto ci piace la sua cazzimma poi non non convinta perché veramente è stato con tutti non solo con me poi io sono una persona che cerca di parlare pure con i giocatori ho chiesto una dedica lui ha detto a chi la devo dedicare ho detto a me allora lui ha fatto dedico a Rosaria faccio tanti saluti a Rosaria e forza Napoli sempre ma lui era contento proprio rispetto a un altro anno che è venuto a fare gli autografi però aveva non aveva lo stesso entusiasmo secondo me ai calciatori fa bene anche avere dei competitor forti perché così si rendono anche un po' conto che è il momento di metterci tutto faccia cuore gambe di bala vogliono sapere dallo studio ti fermo scusami perché abbiamo la telepromozione no no mi senti abbiamo la telepromozione ringrazio a Rosaria torniamo da voi continueremo a fare ping pong abbiamo scoperto grazie a Rosaria che i calciatori che i calciatori sorridono anche e che parlano ma poi dalla distanza abbiamo il cassativo poi vedo dalla distanza lo so lo so che vorresti stare dove è il nostro ospite ma lo raggiungerò ma devi aspettare o no Nunzia sì perché adesso andiamo in un posto magico meraviglioso andiamo a Pestum Colim che già lo guardo tutto abbronzato in terra sarda ciao mister ben trovato buonasera ragazzi buonasera a tutti eccomi in grandissima forma guarda mister abbiamo aspettato te per aprire la parte tattica cioè vogliamo fare un focus perché intanto lanciamolo questa slide animata fatemi vedere amici dalla regia perché è vero che è presto è vero che mancano ancora tanti calciatori all'appello ma ci sono prove in corso di 4-3-3 pensato come Dario pensato così con un tridente poco meno di un mese si comincia fai bene a ricordarlo cioè il 15 si gioca a Verona alle 18.30 in un orario bellissimo comodo comodo e saremo tutti davanti al monitor questa è l'unica cosa certa se c'è vita c'è il calcio Dario 4-3-3 con questa prova che sta facendo in questi pochi giorni di lavoro tridente con l'idea di Osimena al centro naturalmente Osimena che arriverà a fare il primo allenamento verosimilmente mercoledì mattina Lozano Kvaraschelia questo che cosa può significare anche nell'ottica dell'equilibrio che il Napoli deve inseguire che talvolta forse per come l'abbiamo raccontata noi l'equilibrio è mancato proprio nel momento decisivo nella rincorsa alle milanesi Io dico che forse la stagione scorsa ha fatto tesoro per Luciano Spalletti il fatto che comunque era un Napoli sempre più o meno sbilanciato che giocava molto bene davanti che però si è sempre parlato del centrocampo a tre pensa che si parlava ancora del centrocampo a tre quando c'era Ancelotti quindi pensa quanto è fondamentale quel centrocampo a tre per l'equilibrio del Napoli è ovvio che è sempre Zelinski il giocatore che dà più o meno equilibrio dà più o meno opposizione dà più o meno la capacità di essere quel giocatore che determina davanti ma che dà una mano al centrocampo ecco secondo me ruota più intorno a lui questo cambiamento di modulo a me personalmente piace questo 4-3 sai perché? perché attacchi 4-3-3 con un centrocampista che diventa quasi un attaccante dietro Zimè ma soprattutto difendi 4-5-1 d'altronde questo il nostro campionato è un campionato dove l'equilibrio fa la differenza perché se tu vai a vedere l'Inter è stata il miglior attacco del campionato ma anche la miglior difesa del campionato quindi quell'equilibrio poi non l'ha vinto lo Scudetto però era una squadra solida e quello fa la differenza no è assolutamente così cosa pensate Antonio e Cagliazza anche perché Dario torno da te tra pochissimo ci sono due varianti o variabili che vanno considerate sull'outmancino si ritornerà a due uomini di grande spinta perché c'erano una volta Goulam e Insigne in quella zona di campo con Amsic che faceva il calcio possiamo dirlo faceva il calcio oggi arrivano Olivera con maglia numero 17 Kvaraschelia con il 77 e Zelliski che farebbe l'Amsic e Zelliski lì che potrebbe fare l'Amsic no? che pensi? sì mi sembra una soluzione percorribile voglio dire gli uomini ci sono è chiaro oggi non è non è più così rigido il mister credo ci potrà dare suggerimenti in tal senso gli allenatori sono più dinamici da questo punto di vista meno rigidità tranne qualcuno quindi l'alternativa secondo me Spalletti la sta valutando Salva allora Zelliski dice dal ritiro della Nazionale sto bene a Napoli voglio restare qui non riesco a capire perché mi chiediate di alternative o di altre strade perché il buon Dario Marcolini il mio amico che è stato all'altra parte dello schermo nella scorsa stagione nelle ultime trasmissioni disse secondo me è arrivato il momento il momento che cambi un po' aria perché l'ultima stagione soprattutto la seconda parte dell'ultima stagione non ha reso ai suoi livelli e molto probabilmente lo aspetteremo non so per quanto tempo perché Maurizio Salli disse se si convince di essere forte diventerà come De Bruyne credo che la differenza con De Bruyne sia enorme in questo momento anche perché secondo me è arrivato al limite massimo e più di quello non può fare no Marco? Guarda ti dico Salva lui è stato un po' lago della bilancia l'anno scorso purtroppo nella seconda parte è anche un po' in negativo nel senso che comunque contano i numeri contano gli assist contano i gol contano quante partite hai cambiato per assurdo ha fatto più Mertens quando è entrato di lui però oggi è quasi una nuova vita deve cercare di allora Spalletti è innamorato di lui perché lo ha detto mille volte ma anche perché comunque come ha potuto lo ha sempre fatto giocare solo nel periodo che non stava bene l'ha tenuto fuori però per lui il centrocampo del Napoli comprende comunque Zelinski Kvara Schelia giusto? dimmi se lo pronuncio lo direi già l'hai ragazzo sei un numero uno Kvara Schelia lui pensava a te ieri quando ha fatto il video perché l'ho saputo da quelli del Napoli mi ha detto dite così a Dario Marcolin può anche chiamarmi Kvara in telecrol Kvara sarebbe più facile ma lì sarà difficile comunque quando arriveranno le giornate di campionato Kvara Schelia io mi sono già fatto quasi un progetto l'ho scritto però allora chi lo ha portato Giuntoli anche chi lavora per Giuntoli mi parlano di un giocatore pazzesco cioè io sono curiosissimo perché tu lo sai benissimo che Maurizio Micheli comunque c'è gente che lavora lavora per il Napoli mi ha detto ma non sai quanto è forte questo giocatore e vedrai quanto sarà determinante io mi fido di loro ci ho anche lavorato insieme al Brescia loro arrivavano dall'Udinese adesso lavorano al Napoli quindi sanno andare a prendere i giocatori sono quelli che hanno preso Osimen poi sono quelli che hanno preso Anghissà cioè quindi ci fidiamo di questa cosa e c'è un po' la novità di cambiare quella fascia sinistra perché hai detto bene tu il tridente d'oro non c'è più oggi c'è tutta una novità ma secondo me è cambiata anche la carta di identità perché Kvara Schelia è un giocatore molto giovane un giocatore che allora nei video che ho visto e tutti dicono che i video di solito vedi le cose migliori ma mi ha colpito una cosa la sfrontatezza di questo ragazzo cioè nonostante la giovane età gioca come Ribery ti ricordi Ribery quando stava al Bayern Monaco non lo beccavi mai non lo beccavi mai ti puntava ti driblava ti scherzava c'è un po' questa attitudine no? e la curiosità è vedere che non perda questa qualità nel campionato italiano certo Antonio Salvatore poi naturalmente Dario e poi andremo anche a Di Maro da Italia che con i tifosi e poi naturalmente amici della regia quando c'è qualcuno al telefono segnalatemelo pure che è un piacere immenso come cambia il Napoli vanno via sono andati via un palleggiatore eccelso come Lorenzo Insigne non ti trovi più un realizzatore sopraffino come Dries Mertens ha integrato con un esterno basso di grandissima gamba e anche molto offensivo e con uno rapidità come la rapidità dell'esterno cambia la rapidità e anche la rapidità di arrivare lì davanti o no? si cambia ma ripeto la rapidità dell'esterno è vero che i filmati video non danno idea però la velocità con cui muore la palla tu riesci a notarla riesci a coglierla e quindi questa è una cosa che ce l'ha è inutile negarlo insomma e quindi secondo me il Napoli ne guadagnerà in rapidità nell'arrivare nell'altra area di rigore nel superare l'uno contro Antonio mi auguro che si possa integrare subito nel calcio italiano perché in fase di preparazione è tutto troppo bello però ha dall'altra parte un totem del Napoli e mi riferisco a Lorenzo Insigne che oltre che ad attaccare difendeva faceva di tutto su quella fascia quindi inizialmente secondo me e poi vorrei chiederlo a Dario avremo qualche difficoltà nel vedere il Napoli poi mi auguro che possa arrivare Criccia così lo chiamo evito di sbagliare il suo cognome lo chiamo per nome e mi auguro che possa fare la differenza da subito forse è più facile il cognome senti Dario ma è proprio il 433 che ti può dare la garanzia di copertura in più per evitare le difficoltà iniziali cui faceva riferimento Salvatore no? ma guarda io ti dico una cosa penso che siamo un po' tutti d'accordo sia tu che Salvatore che Antonio così che anche la gente che ci ascolta che forse a noi piace a tutti il 433 perché il Napoli sembra nato col 433 allora se tu dici il Barcellona tu dici da Guardiola oggi è sempre un 433 sembra quasi che la storia del Barcellona sia 433 ma il Napoli ripercorre un po' questa attitudine nel senso da Maurizio Sarri fino ad arrivare a quello che è oggi il percorso di Luciano Spalletti sembra che il 433 ci dia più garanzie garanzie quando attacchi garanzie quando difendi garanzie per avere gli uomini nel ruolo giusto credo che Luciano Spalletti lo abbia messo nella sua testa perché partire da un ritiro cercando subito di imporre un modulo di gioco vuol dire che ci hai pensato tutta l'estate questo ti fa riflettere e le qualità dei giocatori vuol dire che allora mentre Insigne ti dava grande copertura quindi potevi anche pensare a un 4-2-3-1 con Kvara Schelia che pensa soprattutto ad attaccare devi avere un centrocampista alle spalle quindi nell'equilibrio credo che mi sembra anche una mossa giusta quella di Spalletti di partire 4-3-3 perché l'equilibrio fa la differenza poi bisognerà capire l'inserimento anche di questo giocatore perché la lingua il campionato italiano il rapporto con l'allenatore i compagni insomma se riuscirà a bruciare le tappe credo che ne può beneficiare moltissimo al Napoli Eh sì Madonna è arrivato Raffaello Giuntoli che è lo zio di Cristiano lì nella postazione d'Italia che ha due notizie per noi poi andiamo al telefono siamo molto rapidi quindi lo capiranno anche gli amici al telefono le notizie di Ita una l'anticipo sulla lingua per questo dico che Marco Lin è troppo avanti la lingua di Kvara Schelia è la scelta della lingua per la conferenza stampa è un fattore che il Napoli sta valutando perché lui Ita correggimi se sbaglio in russo non la vuole fare in russo non vuole parlare perché sappiamo le loro vicende e poi e poi la seconda vabbè mi verrà strada facendo perché al momento mi sfugge e saluto Raffa con tutta la famiglia aggiunto Ita a te e poi la seconda te la dico io perché visto che state parlando tanto di Kvara Schelia dobbiamo raccontarvi che dal campo oggi Mr. Spalletti ha fatto un allenamento personalizzato sia per Zerbin che per Kvara Schelia lui si è dedicato Mr. Spalletti si è dedicato a Zerbin e Mr. Domenichini a Kvara Schelia ed era destro-sinistro destro-sinistro una volta si faceva palla a muro e invece c'erano i due allenatori prima gliela lanciavano alta poi bassa e ci hanno impiegato un bel po' di tempo quindi allenamento personalizzato sia per Zerbin che per Kvara Schelia io approfitto anche della presenza dei due gentilissimi colleghi di Calcio Napoli 24 Manel Guardasole e Nico Bastone di Serie A News per parlare di questa posizione di Kvara Schelia il primo giorno pronti via Spalletti gli ha detto no fermati mettiti sul binario e non ti muovere da là perché tendeva un po' ad entrare dentro vero? Sì buonasera innanzitutto e tra l'altro Italia ricorderai che l'anno scorso la stessa tipologia di allenamento la fece con Osimène proprio Spalletti e se vogliamo potrebbe ripercorrere le urme di Osimène nel migliorare tecnicamente perché lo vediamo è un triblomano è fortissimo ma Spalletti lo sta educando nel suo ruolo ed è chiaro che sotto la mano di Spalletti questo ragazzo può crescere tanto come dicevi tu veramente Spalletti lo sta seguendo e ne ha parlato anche in conferenza stampa perché sa benissimo che è un diamante grezzo Ita di all'ottimo guardasole che ha una dizione perfetta e sembra con occhi chiusi che parli come Gigi Finizio Salvatore Cagliazza ti dice che hai una definizione una dizione perfetta allora sempre a proposito di Quaraschele mi hai distratto stava parlando mannaggia invece a te voglio chiedere un'altra cosa di campo in studio stanno discutendo anche con mister Marcolin del possibile 4-3-3 che il Napoli farebbe nella prossima stagione tu che cosa ne pensi? Sì credo sia il modulo giusto per esprimere al meglio le qualità di Lozano a destra e Quaraschele a sinistra anche perché è un triplomane è uno che va in verticale può aiutare anche Osimene che l'anno scorso è stato molto isolato e credo sia diciamo il modulo giusto per fare esprimare meglio anche le mezzali con lo botca perno davanti alla difesa e Angissà e Fabiano probabilmente dall'altra parte tra l'altro oggi hanno lavorato molto anche sui cross mi è venuta Ida Baldini mi racconti come è stato richiamato Baldini allora allora innanzitutto aspetta ti faccio salutare un attimo Raffaello Raffaello buonasera Silve ti vuole salutare digli qualcosa ciao Silve non si lascia mai il microfono lo tengo io sì ho parlato per telefono con tuo padre abbiamo fatto una bella chiacchierata mi ha ricordato tutte le strade che ha percorso là in Toscana è stato molto contento mi sembra che stia abbastanza benino bene ci siamo salutati dicendoci di risentirci presto ascolta Raffaello no lo sai che tu nipote ieri ha guadagnato mille mille punti l'altro giorno ha guadagnato mille mille punti perché ha fatto una conferenza stampa spettacolare era 18 anni che l'aspettavamo oggi giuntoli è sulla bocca di tutti sì è sempre a telefono a parlare con tanti tanti però tiene un po' tutto segreto non c'è da dire nulla se si concretizza qualcosa di quello che mi ha detto penso che Napoli sarà grande anche l'anno prossimo caspita ragazzi capito adesso dopo però ce lo dice Raffaello noi siamo privilegiati allora sì volevo raccontarvi un attimo di mister Baldini vai 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 poi torno da Dario no Baldini sì Baldini rapidamente è tornato perché al cuore non si comanda quando il tuo migliore amico ti chiama anche se stai in mezzo al mare su una barca che fai torni indietro perché Spalletti si è trovato in netta difficoltà dopo la partenza imprevista di Calzona allora ha chiamato Baldini il telefono prendeva e gli ha detto ti prego torna a darmi una mano quindi Baldini oggi è arrivato a Di Maro e da domani sarà a disposizione dello staff tecnico continuerà a lavorare e a preparare i calci da fermo ma farà anche la fase difensiva arrivano buonissimi giudizi su Salvatore Russo torna da Malcorino e poi continuiamo da qui o per stati pedi a qualcuno aspetta Ita riferisci dopo a Raffaello quello che sto per dire Raffaello Giuntoli negli anni abbiamo conosciuto la famiglia Giuntoli ecco perché dico a quei tifosi che prima si adirano perché il Napoli non parla poi il Napoli parla e mettono in discussione la veridicità dell'uomo che ci mette la faccia noi abbiamo conosciuto la risma cioè il genere la famiglia e quindi se uno di quelli ci mette la faccia per quelli lì la dignità viene prima del resto detto questo Italia dammi dopo buone notizie perché sono stato io negli anni scorsi a stringere i freni della carrozzina volante di Raffaello perché lo vedete così ma non tira i freni neanche se li avesse neanche in discesa quindi vogliamo stare tranquilli Dario Marcolin Dario se ti chiedo di farmi il centrocampo del Napoli allora io ti chiedo dammi tre nomi i tuoi tre tu sei l'allenatore del Napoli metti in campo il Napoli chi lì in mezzo? Beh sicuramente Zelinski perché gli voglio dare fiducia in quello che in quello che è il suo percorso Anghissa e Fabian sono quelli che hanno dato più garanzie no? Poi alla fine bisogna anche capire Spalletti da dove vuol partire però credo che loro tre sono in vantaggio su tutti cioè non credo che cioè se fosse stato un 4-2-3-1 ti avrei detto potrebbe entrare Demme a trovare un po' di spazio così c'è un giocatore tipo lui però così credo che sia abbastanza facile quello che che vanno a ricoprire quei tre giocatori perché sono stati anche la colonna portante di questa squadra Scusa Dario e Lobotka? Lobotka allora quando Antonio quando tu riparti da zero all'inizio della stagione si a zero un po' tutto e nelle gerarchie dell'allenatore vanno nei titolari quelli migliori allora Lobotka ha fatto un grandissimo campionato l'anno scorso per la mancanza di Zelinski per quello che ha sofferto Fabian e credo che lui si sia ritagliato un grande spazio oggi quei tre secondo me che ti ho detto prima hanno qualcosa in più rispetto allo vodka se tu pensi a un campionato da vertice quindi l'allenatore credo che prima punti su di loro e ha come piano B diciamo la possibilità di inserire anche Lobotka credo che sia questo un po' il pensiero di Spalletti siete d'accordo Salve tu sei d'accordo cioè Lobotka fuori ragazzi io non sono tanto convinto per le caratteristiche di Lobotka è dura però io credo che al di là al di là degli schemi credo Antonio che con due competizioni e soprattutto con la Champions e non con l'Europa League io credo che c'è bisogno di tutti e per chi altrimenti va in difficoltà e non a caso Spalletti in conferenza stampa ha insistito ancora una volta per avere due portieri allo stesso livello al telefono vediamo chi c'è pronto la morte Napoli sì ciao ciao Ernesto buonasera posso fare una domanda e mezza al suo cagliaccio ti ascolta vai io che parte in vacanza ho sentito che è molto impegnato ci vuole ci vuole un po' di tempo Ernè mi devi subire fino al 6 agosto è un onore e un piacere ascoltarla la mia domanda è questa qua secondo lei il presidente del Napoli offrendo tutti quei soldi a Fulibali non è che già sa che non rinnova e quindi ha fatto l'ennesimo show per mettere eh no Ernè è vero lo so se facciamo il processo all'intenzione possiamo pensare di tutto e di più mi sembra strano riguardo e chi ti dice che non gliel'abbia affetto ragazzi preparate il cartellino però posso dire una cosa Ernesto nel gioco delle trattative qui abbiamo Antonio Tajano che ha fatto l'ultima trattativa per il rinnovo di Lorenzo Insigne che poi è andato via cambiando due procuratori Minoraiola Buonanima e Vincenzo Pisacane e credo che poi nel gioco delle trattative ma non solo di calciatori anche di compravendita di auto di case tu fai la tua offerta io faccio la mia per arrivare ad un punto di incontro e poi non lo so se il presidente dell'Aurentisi già sa di averlo venduto e quindi si è giocato questa carta ma io perciò dicevo Ernesto che secondo me non devono nascondere assolutamente Coulibaly come è successo per altri anni di calciatori che in ogni scadenza non l'hanno mai fatti parlare si è aperto questo varco della comunicazione nuova facessero parlare il calciatore un mio pensiero è poi giusto per me già se n'è andato però come ha detto un telespettatore che stava a Di Maro chi vuole rimanere rimani chi non vuole rimanere per me se ne può andare bene sempre forza Napoli ciao Ernesto non c'è niente da fare ci deve essere sempre comunque qualcosa ma se ma se forse vabbè però così come ha detto un amico da Di Maro se ogni tanto Aurelio sparasse fuori anche una bella parola in dialetto napoletano non darebbe fastidio se chiediamo a Dario Marcolini di parlare il nostro dialetto no vabbè questo è un nato a Brescia vive a Roma e parla napoletano aspetta aspetta ti dico che guagliò ti fatta cattà chi non te sa perché ho detto no lo sai cosa mi hanno colpito le parole Raffaello si chiama Giuntoli che ha detto che se va in porto qualcosa di quello che gli ha raccontato il dipote giusto esatto Cristiano che conosciamo tutti è un grandissimo Napoli vuol dire che ci sono dei nomi forti perché Raffaello sicuramente i giocatori all'estero che sono meno conosciuti non li conosce quello che ha sentito probabilmente sono nomi importanti e io faccio leva su questo perché ritorni scherzando è uscita qualche mezza verità e qualche mezza verità vuol dire che ci sono dei lavori in corso su qualcosa di forte ma sai qual è il mio pensiero? il mio pensiero è capire dove cioè in che settore difesa centrocampo attacco credo nell'attacco però bravo se vuoi fare il colpo devi farlo in attacco cioè sai cos'è Dario poi abbiamo la pubblicità e veramente ti rubiamo altri due minuti servono i gol cioè il Napoli si è svuotato di troppi gol con Insigne e Mertens diciamo che l'hanno servono anche dei rifornimenti per Ozyman esatto esatto ne ha parlato ne ha parlato però Spalletti e di questo vorrei chiederti dopo la pubblicità non più di due minuti ma tanto vedo che stai ora smart è smart ok allora facciamo così Nunzia sì torniamo in pubblicità qualche altro secondo ci rivediamo qui tra poco non cambiate canale eccoci rientriamo il rush finale di questa terza puntata ne parliamo dal hai parlato un po' toscano rientriamo rientriamo allora toscaneggio hai detto una cosa ci pensavo c'è sempre bisogno dell'imbeccata di Marcolin perché mi faceva notare giustamente quello che ha sussurrato Raffaello Giuntoli che è lo zio di Cristiano che dice se dovessero andare in porto un paio di situazioni che mi ha raccontato Cristiano e ci divertiamo il Napoli si diverte e staremo a vedere chissà Italia starà provando a carpire qualcosa ma cosa serve Dario Marcolin serve Di Bala come si legge oppure a me piacerebbe Deulofeo da mettere sotto Di Bala farebbe cambiare modulo al Napoli ti dico la verità perché però il Napoli non è che non conosce il 4-2-3-1 l'ha già fatto quasi per tutta la stagione l'anno scorso quindi potrebbe essere un Napoli ultra offensivo a quel punto lì il giocatore sacrificato potrebbe essere Zelensky al di là di questo Deulofeo invece secondo me sarebbe la certezza o la garanzia o l'alternativa sulla sinistra nel senso che magari parti con Deulofeo e poi hai l'inserimento di Kvara Schelia lo fai crescere Deulofeo ha fatto un grande campionato non possiamo nasconderci è ovvio che Di Bala sposta gli equilibri cioè Di Bala io quest'anno quando facevo le telecroniche della Juventus quando entrava Di Bala ti faceva vedere un calcio diverso ti faceva vedere giocate diverse cioè lo noti proprio che è un giocatore che accende la fase offensiva con delle giocate illuminanti sembra quasi un giocatore della nostra epoca quando c'era Baggio quando c'era Mancini grande qualità quando c'era Toccio cioè quei giocatori che se tu pensi una cosa e loro in campo l'hanno già fatta ecco Di Bala viene fuori da quel cerchio eh sì l'unico l'unico calciatore che ti dà sempre il senso dell'imprevedibilità che tu ti aspetti sempre qualcosa vuoi sempre che la palla venga data a lui per vedere bel calcio sai cosa mi ha colpito eh ragazzi mi ha colpito Spalletti che in conferenza stampa ripercorre quello che per noi durante la stagione televisiva era diventato un light motive dice Osimène ha dimostrato di essere molto forte di testa ce ne siamo accorti era sempre su tutti i palloni ha fatto dei gol bellissimi a parte le acrobazie che tu hai raccontato all'Eister no Dario ma di testa c'è sempre e noi lo abbiamo servito poco e male quest'anno abbiamo il compito di servirlo di più e bene ragazzi più indicazione di questa sul nuovo diciamo atteggiamento tattico che dovrà avere il Napoli anche con i nuovi uomini no Dario cominci tu no comincio io dicendoti che questo è un pensiero cambiato da parte di Spalletti perché l'anno scorso non diceva questa cosa cioè che non lo servivano bene l'anno scorso diceva che lui doveva imparare a muoversi dentro il campo oggi ti dice invece che lo devono servire diversamente quindi è cambiato un mondo dal primo giorno dell'anno scorso al primo giorno di quest'anno cioè anche nell'ottica dell'allenatore se prima perdeva non perdeva impegnava tanto tempo su Osimene per fargli capire quello che deve fare i movimenti la squadra oggi invece questo tempo lo cambia su altri giocatori per cercare di fare rilevare la palla come vuole lui oggi credo che Osimene abbia dimostrato di essere molto forte di testa ma anche con i piedi a me viene in mente il gol che ha fatto la Fiorentina no? solo un campione fa quel gol contro la Fiorentina che mezza palla che gli ha lasciato mi sembra Milenkovic non voglio sbagliarvi ha controllato questa palla e ha calciato all'incrocio dei palli del lato opposto ecco solo i grandi campioni fanno queste cose ma solo la crescita di Osimene ha dato modo di vedere anche quei gol oltre ai bel gol di testa andiamo a Di Maru ultimo collegamento con Italia e con gli amici che sono al suo fianco quindi hai capito di più da Raffaello no adesso gli faccio una domanda parto da lui perché deve anche fare un saluto e doveva fare anche una domanda a Marco Lin quindi insomma abbiamo parecchio da dire con Raffaello ma secondo te per il Napoli sarebbe più giusto in questo momento di Bala o di Olofeu rispondi 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 se fossi per me sarebbe meglio di Bala però difende dalla disponibilità della società io ho chiesto il tuo parere quindi di Bala sarebbe un tridente bellissimo con Osimè di Bala e come si chiama Kvaraschelia ma sarebbe un tridente da vincere lo scudetto quasi 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 vedremo adesso però devi dire una cosa a mister Marcolin e devi fare un saluto giusto? saluto Marcolin perché lo ha apprezzato tanto da calciatore e come commentatore di Dazon che vediamo spesso ciao un saluto a lui poi voglio mandare un saluto a degli amici di Napoli Patrizia Gennarino e tutta la famiglia loro che ci ospitano quando veniamo a Napoli a vedere le partite e ci ospitano con con una cordialità che è di Napoletà diciamo così grazie grazie Raffaello allora una battuta rapidissima la stessa domanda per tutti voi chi potrebbe accendere il sogno ma soprattutto chi potrebbe far segnare di più o si meno perché al Napoli sono mancati i gol e mancheranno ancora di più quest'anno senza insigne e forse Mertens secondo me ci vuole un centrocampista un centrocampista un centrocampista vai no a me sta bene che va a Schellia che va a Schellia non vuoi di Bala non vuoi de Lofè o niente Mertens allora assolutamente Mertens ma sì assolutamente di Bala no è infettato quindi non va bene di Bala l'ha detto con uno sguardo di Bala io punto su Zilischi quest'anno Zilischi bravo bravo sei appena arrivato non fa niente tu hai sentito la domanda chi vorreste per sognare Meret 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 per sognare già c'è non lo teniamo già l'ha detto apposto va bene io Mertens il mio amico Mertens Mertens quelli che ci sono va bene anche senza Mertens anche senza Mertens ma quanto si accontentano di poco questi tifosi spending review anche nel sogno no sono tutti là sono solo quelli quanti vivono a Napoli no sono solo quelli sono quei cinque di Bala devo dire che ha preso pochi voti eh vabbè vabbè di Bala giocatore fortissimo Ida un abbraccio forte a te a tutti gli amici che ti sono attorno riconosco anche Gennaro Apuzzo e al grande Raffaello giuntoli ok mi saluta ciao ciao ragazzi ciao Italia a domani saluti a domani buonasera ciao mister saluto anche te hai sentito sì sì ho sentito ringrazio Raffaello perché veramente si capisce subito che è una persona molto carina e che è patito di calcio che gli piace il bel calcio se ci ha detto di Bala vorrei dire percorreremo con la strada vabbè mister grazie grazie un abbraccio forte ciao ragazzi ciao buonanotte ciao Nunzia vogliamo salutare prima i nostri amici sponsor ringraziamo i nostri partner iniziamo con resort villaggio oasis di Pestum il tuo villaggio all inclusive nel Cilento Energas energia per la tua casa per la tua azienda la tua auto Energas è l'energia che ti premia PowerX la migliore tecnologia al miglior prezzo Fruit Village i villaggi in Italia e all'estero Vemac soluzioni per pulire Cennamo arredamenti se puoi sognarlo puoi averlo Luigi Fusaro eleganza contemporanea Vesuvio Islandia Park il parco divertimenti per tutta la famiglia grazie grazie Nunzia e qui cosa c'è? qui ti ho portato un altro regalo perché visto che devi ricaricare i telefonini ti porto un caricabatteria da tavolo griffato PowerX tu metti il telefono qua sopra e si ricarica si carica da solo e tutta la notte puoi stare tranquillo sai è una bella cosa è una bella cosa grazie Salvatore grazie a PowerX grazie a voi per averci seguito Antonio Taiano sono contentissimo spero tu possa tornare a trovarci sai il piacere è mio grazie grazie a te grazie grazie Antonio buonasera buonanotte grazie Salvatore buonanotte a tutti a domani come ti sei trovata Nunzia? benissimo un'accoglienza stupenda come primo giorno è andata bene sì e ci vediamo domani? domani a che ora? dalle 21 alle 22.30 qui su Canale O e allora fai un passo avanti Marco veniamo noi verso di te sfiliamo così seguimi Nunzia appuntamento alla replica subito dopo la sigla grazie a tutti